Come procede l'avvicinamento alla Maceratese dopo le due prove gagliarde contro Foggia e Spal? Sicuramente siamo più sicuri di noi e questo è un punto a nostro favore. Poi stiamo cercando di ripetere la gara con Foggia e con la Spal con la stessa grinta perché è una cosa che secondo me ci è mancata nelle due partite precedenti. Se corriamo tutti come abbiamo fatto in queste due partite e mettiamo la stessa grinta secondo me diamo un filo da torcere anche alla Maceratese. Maceratese è una squadra che in casa ha quasi sempre segnato un avversario da temere giocheranno spesso in contropiede. Cosa vi aspettate? Ricordandoci anche la gara di ritorno sì, molto probabile. È una squadra che sta in undici dietro la linea della palla e poi partono in contropiede perché hanno gli esterni molto rapidi e davanti sono molto bravi nel fraseggio. Quindi sì, ci aspettiamo una squadra che gioca in contropiede ma non si sa mai essendo in casa può darsi anche che ci vengano a prendere alti senza farci giocare. Meglio pensare partita dopo partita o avete qualche obiettivo, playoff oppure 40 punti? Obiettivo 40 punti. Solo quello pensiamo partita per partita perché se no ci montiamo troppo la testa ed è una cosa che non ci possiamo permettere. Quindi andiamo avanti così e il nostro obiettivo è la salvezza adesso come adesso. Due terzi di stagione più o meno a livello personale dove ti immaginavi di essere? Cioè in che senso questa domanda scusami? A che punto sei della tua crescita a livello personale? Ti saresti aspettato un momento del genere a due terzi di stagione oppure no? Sinceramente no, però diciamo che mi aspettavo di lavorare duramente, è quello che sto facendo e mi sta anche in parte ripagando perché vedendo le soddisfazioni che mi sta dando in partita e tutto, grazie anche al mio mister e tutto che mi fa fare un lavoro molto intenso, riesco a forse dare più di quello che mi sarei aspettato inizio anno e speriamo di continuare così e di dar continuità a quello che sto facendo. Senti, martedì il semifinale di Coppa Italia è un altro obiettivo però importante. Assolutamente sì, il nostro obiettivo oltre alla salvezza rimane anche la Coppa Italia perché arrivato a questo punto e vedendo anche il risultato d'andata sarà una gara ancora più complicata perché loro giocando in casa e avendo il tifo dalla loro parte diciamo che sarà il dodicesimo uomo in campo praticamente, daranno tutto per tutto e appunto come è successo ieri in Terriove ci si può aspettare di tutto dal Foggia, quindi dobbiamo rimanere concentrati e sul pezzo come sempre. Hai parlato del tuo preparatore, mister Vecchini, esercizi a mio modo di vedere anche tanto originali, una preparazione poco ortodossa. Sì, lui studia molto diciamo quando è a casa e studia soprattutto per farci lavorare anche utilizzando delle telecamere in allenamento per studiarci meglio e tutto e studia sempre nuovi esercizi per diciamo valorizzare anche il nostro lavoro perché per non essere diciamo monotono e questo ci fa venire più voglia di lavorare e infatti se guardate i nostri allenamenti c'è sempre molta intensità e siamo sempre concentrati secondo me.